Musica Buonasera, sono Antonello Maglietta, vicepresidente nazionale dell'Associazione Italiana Sommelier. Buonasera, questa sera abbiamo presentato qui a Milano, in questa serata di degustazione organizzata da AIS Lombardia, 5 champagne di aziende piccole, di aziende molto particolari. Abbiamo presentato dei recoltanti, ossia dei produttori di champagne che vinificano esclusivamente le proprie uve, quindi le uve esclusive della propria vigna. 5 champagne orientati sui territori differenti, abbiamo spaziato sulla montagna di Reim con soprattutto prodotti realizzati attraverso l'assemblaggio di Chardonnay e Pino Nero, così come un grande interesse in apertura di serata ha suscitato un prodotto proveniente dalla Côte de Blanc da Chardonnay in purezza dell'azienda Bernard Pertouin. Pertouin ha un piccolo vignaiolo che fa circa 30.000 bottiglie. A seguire le aziende successive invece erano leggermente più grandi, nel senso aziende che producevano circa dalle 40 alle 50.000 bottiglie, comunque piccola cosa considerando che le grandi maison di champagne sfornano milioni di bottiglie di grande livello qualitativo. Dopo ci siamo spostati su dei rosè, rosè interessantissimi, sempre della montagna di Reims, dell'azienda Guy de Roche, e poi successivamente ci siamo orientati su una zona poco conosciuta che è quella dell'Obe, una zona non tradizionalmente conosciuta come può essere la montagna di Reims, la valle della Marna e la Côte de Blanc. Nell'Obe ci sono aziende che producono soprattutto da uve della varietà Pino Nero, in particolare Grande Curiosità Urbain che ha proposto un Pino Nero in purezza di grandissima eleganza e poi nota curiosissima un Demisec, un Demisec da uve Grand Cru, anche in questo caso provenienti dalla Côte de Blanc, e in particolare dal comune di L'Emesis-le-Roger, che è un comune dove normalmente risiedono le maison di grande prestigio. Questo era un piccolo produttore che ci ha affascinato con questo Demisec orientato, quindi sulle note morbide, quindi un gusto un pochino diverso rispetto a quelli che siamo abituati, normalmente champagne è coniugato nella tipologia brut. Il Demisec è una nota veramente molto molto curiosa, tra l'altro anche le quantità di questa produzione erano molto limitate perché parliamo di un prodotto tirato in circa un migliaio di bottiglie, quindi veramente poca cosa rispetto ai grandi numeri a cui siamo abituati. Soprattutto occorre ricordare che champagne nel nostro immaginario è un prodotto di grande elite, di grande richiamo, di grande appeal, però è un prodotto, attenzione, vale la pena di ricordarlo, prodotto in svariati milioni di bottiglie, parliamo circa 380-400 milioni di bottiglie collocate su dei profili qualitativi eccellenti in tutto il mondo.